Cosa vuol dire che un artista lavora in esclusiva per una galleria? Ha un compenso fisso? In realtà significa che l'artista ha firmato un contratto che norma le sue attività in esclusiva nei confronti di una galleria, ossia che non può vendere se non passando da quella galleria. Esistono varie tipologie di contratto che normano anche gli aspetti economici, quindi il compenso fisso fa parte semplicemente del contratto e anche di una conversazione, di una contrattazione privata tra te e il gallerista. L'esclusiva significa fondamentalmente che qualsiasi rendita che tu devi fare deve passare obbligatoriamente dalla galleria. La galleria poi in base al contratto avrà delle esclusive che possono essere territoriali, della città, nazionali, regionali, dipende dal contratto che è firmato. In base a quei limiti che possono essere temporali, territoriali, ci saranno dei rapporti economici. Questi rapporti possono essere un fisso al mese oppure ancora la possibilità di avere un preacquisto di opere, quindi la galleria si impegna ad acquistare tutte le tue opere o una parte o ancora solo alcune opere, magari sopra una determinata misura e tutto questo ti lega quindi alla galleria. Dipenderà dal contratto che tu firmerai che normerà tutte queste condizioni, da un lato di esclusiva di vendita, dall'altro dal punto di vista economico e quindi che cosa ti offriranno a fronte della tua esclusiva. I contratti di esclusiva sono cruciali e sono molto molto importanti ma anche molto molto rischiosi per l'artista in quanto devono essere sempre espresse anche le clausole recessorie. Ti do l'esclusiva a patto che tu faccia determinate cose. Se questo non avviene si rischia di essere bloccati addirittura per anni o di spendere dei soldi per cercare di far valere le proprie ragioni e annullare il contratto firmato. Quindi prima di firmare è sempre bene contattare un avvocato di parte e farsi tutelare.